Tutto è pronto, possiamo partire. Grazie a tutti. A destra. Voltare a destra. Ripetere a destra. Voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Voltare a destra. 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 Alla ruotatoria prendere la seconda uscita. Uscire adesso. Alla ruotatoria prendere la seconda uscita, 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 uscita. Alla ruotatoria prendere la seconda uscita. Alla ruotatoria prendere la seconda uscita, 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 uscita. Alla ruotatoria prendere la seconda uscita, 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 uscita. Alla ruotatoria prendere la seconda uscita. Grazie a tutti. 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 Tenersi a sinistra. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.